Esistono pazienti che non possono più mettere gli impianti dentali, che sono già stati da 4-5 chirurghi, anche maxillofaciali, e gli hanno detto guarda nel tuo caso non si può più fare nulla. Pazienti che sono costretti a stare con una dentiera in bocca, a dire il vero neanche in bocca, in tasca, perché non sta più neanche sopra con la colla, a causa della perdita eccessiva di osso. Sono pazienti che hanno davanti a sé il prospetto di una vita ormai senza più la qualità di poter mangiare come si deve, poter vivere un rapporto con un partner come si deve, o persone che addirittura gli viene impedito di poter lavorare in maniera serena a causa di questo problema che sta proprio in mezzo al viso. Sappi che oggi esiste la possibilità di andare a risolvere anche casi come questi, casi estremi, l'ultima chance. Esiste la possibilità infatti di andare utilizzando degli impianti speciali a rimettere i denti fissi anche in quelle condizioni apparentemente senza soluzione.